La passione è nata da bambino logicamente perché per riuscire a ottenere questa raccolta e senza delle grosse somme di denaro c'è avuto molto tempo. Da bambino ho cominciato a conoscere le conchiglie, le spugne e poi ho cominciato a raccogliere qualcosa ho comprato qualcosa mi hanno portato gli amici naviganti e così con gli anni ho fatto una specie di raccolta e poi io mi sono portato su altre cose del mare perché a me piace tutto il mare non il mare delle conchiglie ma il mare delle spugne dei ricci delle stelle dei coralli di tutto ciò che delle gorgogne di di tutto i crostacei di tutto quello che riguarda il mare io ho una particolare visione e poi anche sono nate nuove cose ad esempio i crostacei ho cominciato a interessarmi a chiedere come si poteva fare mi piacevano trovavo sott'acqua dei pezzi particolari oppure quando andavo in vacanza in Sardegna a Lampedusa alle Tremiti quando in Sicilia quando andavo in giro e così ho cominciato anche a collezionare i crostacei adesso un po' crostacei di tutto il mondo anche quelli queste conchiglie come si vede dai volumi da volumi si dividono in tante famiglie non so ad esempio i lambis sono quelli ramificati e i spondilus sono tutti quelli con le punte lunghe ecco per capirci lo dico in un modo un po' primitivo le cipree che sono tutte quelle lucide che dicano che la gente le lucida no invece sono così i coni sono fatte a forma conica le olive le volute insomma sono tantissime famiglie che vengono tutte elencate poi vengono suddivise in sottofamiglie in specie e per arrivare a un certo punto bisogna anche avere dei volumi adatti per poterle catalogare perché tante sembrano uguali poi invece sono si va a vedere bene sono proprio messe vicino si vede che sono diverse io ho collezionato più che altro quelle un po' piccole perché quelle grosse se no non esco di casa io ecco sì